Buonasera da Umbria Journal TV. Vediamo l'andamento dei mercati di oggi. Le borse europee in calo mentre Wall Street è chiusa per il Martin Luther King Day. Chiusura in calo per piazza affari. L'indice di Milano cede l'1,37% a 19.247 punti. Parigi ha ceduto lo 0,82% a 4.882 punti e Francoforte lo 0,64% a 11.554 punti. Più cauta Londra che ha perso lo 0,15% a 7.327 punti. La borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in ribasso. L'indice Nikkei cede lo 0,88% a quota 19.095,24 con una perdita di 192 punti. L'Hanseng di Hong Kong ha chiuso a meno 0,96% a 22.718,15 punti. L'euro si indebolisce sul dollaro e chiude sul filo degli 1,06 biglietti verdi a quota 1,0599. La valuta europea perde terreno anche nei confronti della moneta nipponica a 120,88 yen. Il dollaro yen infine si attesta in calo a 114,05.